Si chiama Daniele Alesini il primo super campione di questa stagione dell'eredità, con un monte premi di 285 mila euro. Nella puntata andata in onda ieri domenica 14 gennaio, il concorrente, alla sua decima partecipazione nonché alla sesta ghigliottina del game show di Rai, un condotto da Marco Liornia infatti, conquistato 190 mila euro, inanellando le cinque definizioni e indovinando la parola vuoto. E qualche giorno fa si era già giudicato 95 mila euro. Daniele Alesini Umbro di Foligno, PG, ha 38 anni, è un medico oncologo che lavora all'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma, ha tre figli e ama viaggiare. L'eredità, prodotto da intrattenimento dei Time Rai in collaborazione con Banigiai, è in onda tutti i giorni alle 18 e 50 su Rai 1, realizzato all'interno dello studio 4 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi, ex diar a Roma.